La cornice è molto particolare perché è quella dell'Anfiteatro Costantino Belluscio di Altomonte e quindi è una cornice straordinaria. Non poteva mancare un grandissimo attore come Giobe Covatta dalla splendida sensibilità. È un attore che noi spesso coinvolgiamo nelle nostre attività culturali e lo volevamo anche presentare in primo atto. Questa seconda edizione è spumeggiante con tantissimi spettacoli sia nella parte invernale che in quella estiva. Adesso la cornice è molto molto particolare quindi ci sta la sua presenza con il suo spettacolo che questa volta è Scoop Donna Sapiens. Tutto lo spettacolo parla di questo, della superiorità femminile rispetto al becero mondo maschile. Becero, spesso lo è, spesso lo è. Questa superiorità per me si palesa in un'infinità di dettagli che stasera vi narrerò e che in realtà non sono dettagli, sono segni caratteriali per quanto si possa utilizzare questo termine nei confronti di un'intera categoria. Ovviamente facciamo una media generale, ci sono degli uomini straordinariamente intelligenti e straordinariamente sensibili e delle femmine che sono straordinariamente una chiave. Ma se andiamo a fare una media di tutte queste cose qua, io ritengo, ma è una sua opinione ovviamente, poi tutto questo, se arriva un altro domani e vuole dimostrare il contrario, probabilmente ci riesce perché poi nelle dimostrazioni si usano sempre e soltanto gli elementi che portano l'acqua a quel mulino là e quindi è evidente che c'è un sofismo di base che potrebbe dimostrare tutto e il contrario di tutto. Detto questo, la mia posizione, la mia interpretazione di questa teoria, ancorché sofistica, come è logico che sia, ma è sincera. Su questo non ho nessun dubbio, nel senso che io lo penso veramente, non è una scrittura. È un'idea.